Subito la Val di Ceppo che cerca addirittura con una, con un reverso, qua l'altivo, bel ribaltamento, cambio di gioco, prova il backdoor, bella finta la sua, c'è il rimbalzo offensivo e ora il taglio bellissimo, si impensierisce Porto Sant'Elpidio ma ora il numero 4 Torresi Diego, super pressione difensiva di Porto Sant'Elpidio che va a guadagnarsi, dopo quella che è quasi chiamata zona ma qua Burini, vede Burini che esce dal blocco, Ricciola sempre, bravissimo, ci provano subito, porta sul più 3 del Porto Sant'Elpidio, ora il Mesc, sinistro del campo, cerca il pick and roll, lo trova, lo sfrutta molto, chiama la calma, poi no, la passa Torresi che serve il Mesc, libero, dall'angolo, passo, serve, ancora lo scarico, ancora una grande azione, blocco, Marozini, la ripassa, mamma mia, la Val di Ceppo che trova perfettamente, che finta, va fino in fondo e trova, ora contropiede per Porto Sant'Elpidio che prova, il giocatore, mamma mia, bella azione però, cerca il passaggio per Fabi, che al volo la passa Gilla, Ficco, serve, Jacopo Anastasi, vuole la bomba, spaventoso ma forse esagerato e qua, ancora di casa, ora, ancora rimane dietro allo che si va a giocare nel post basso, prova con il gancio ancora palla a Val di Ceppo, ora il Mesc in contropiede, vuole andare, ora vuole la bomba, la palla non entra ma c'è Val di Ceppo che con il Mesc prova ad attaccare la sinistra, costo costo, rischioso, ma poi c'è un buco post basso, Lucas Polecauskas, bravissimo, poi Orlandi sullo scarico a servire in extra ora Burini, prova a andar via, la situazione è interessante, ancora, ora Lucas Polecauskas Lucas Polecauskas, arriva all'ultimo secondo, 27 secondi alla fine, palla ancora, al numero 20 cauto, ma si arriva alla fine, Sagripanti, palla ancora Boffini, che si prende i contatti amministrare questa azione, poi, è da un po' che non segnano ora Boffini, riprova, compagno di squadra di Angilla Riccardo che si gira perfettamente, poi va in reverse e prova ad attaccare perché non ha marcato bene, è molto lontano, sbaglia, ma c'è Policauskas ora Boffini, molto caldo, prova a sbalare sul più 13, che ormai possiamo dire ha messo Boffini ci prova da 3 punti, è lontanissimo, anche all'ultimo secondo, ma finisce così, non c'è più tempo 63 a 52, partita